È stato un evento di successo come l'evento dell'anno scorso, abbiamo quindi ripetuto la seconda edizione di quello che è una giornata dedicata al Pilates che si svolge in tutto il mondo. Di solito il primo sabato di maggio, quest'anno abbiamo posticipato a causa del clima. Sfruttare una struttura del genere è davvero tanta roba. È un posto bellissimo, molto ben curato, molto rispettato da chi viene e si allena o viene e porta i bambini. Ci sono anche altri struttori che sfruttano l'aria, il verde, ci sono campetti, ci sono tanti bambini. È un posto stupendo da preservare. Il Pilates è una disciplina che ad Avellino sta avendo sempre più successo. Sì, me ne sono accorta. Tantissime richieste, tante colleghe che lavorano moltissimo e finalmente si comincia a capire che è una disciplina utilissima per qualsiasi cosa. Il Pilates Day è la sua seconda edizione. Ci saranno altri eventi qui al Parco Palatucci o si firmano qui quelli del Pilates? Allora, in realtà è un evento unico che svolgo in maniera annuale. Sto valutando se fare qualche lezione al parco di tanto in tanto oppure ripetere comunque una giornata così gratuita, aperta a tutti, prossimamente. Arriva la bella stagione, il Pilates potrebbe portare dei benefici a tutto il corpo, sia ai maschietti che alle femminucce? Assolutamente sì. Chiaramente sotto il sole si suda un po' di più, quindi per quanto riguarda le femminucce può essere solamente un piacere poter sudare. Ma la ginnastica è aperta a tutti e non è mai tardi per cominciare. Qual è l'apparato del corpo che si sviluppa maggiormente con il Pilates? Senza ombre di dubbio l'addome, perché la respirazione va a dare una profonda stimolazione isometrica principalmente ai muscoli addominali e qualsiasi esercizio fai grazie alla respirazione viene sempre coinvolto l'addome.